Ciao e benvenuti sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo nelle relazioni. Sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice e direttrice del Dipartimento di Analisi e Prevenzione delle Dinamiche Narcisistiche nelle Relazioni dell'Università Unimeyer di Milano. In questo video ti porto a conoscere cosa sono i vincoli traumatici e come funzionano nella mente umana. Per semplicità descriverò la vittima principalmente come una lei e il narcisista come un lui, ma ci tengo a precisare che la dinamica narcisistica è riscontrabile anche a parti invertite. I vincoli traumatici sono come delle vere e proprie dipendenze e questo rende molto importante capire perché il rapporto di coppia con un soggetto psicopatico narcisista maligno produce in noi lo stesso effetto di una droga, cioè perché porta a generare una dipendenza. Ora vediamo quali sono i tre segnali che servono a professionisti per identificare se un determinato comportamento nasconde una dipendenza. Il primo è la compulsione, ossia la perdita della vostra capacità di scegliere liberamente, di fermare o continuare con il comportamento. Il secondo è la ripetizione del comportamento nonostante le avverse e nocive conseguenze per voi che possono presentarsi in forma di danni alla vostra salute, sofferenza personale, perdita della vostra autostima, del vostro lavoro, della vostra famiglia, della vostra carriera o della vostra libertà personale. Il terzo e ultimo segnale è l'ossessione e la focalizzazione su questo comportamento. Tutti i dipendenti affettivi sanno perfettamente che dovranno fermare e interrompere i loro comportamenti ma sentono di non riuscire a farlo. Sanno che continuare questa dipendenza implica soffrire ogni sorta di conseguenza avversa. Tutto nella vita del dipendente affettivo è sacrificato, i suoi valori, la famiglia, gli amici, la salute, il lavoro, ecc. Il comportamento e la preoccupazione correlata si trasformano nella cosa più importante al mondo. Tutto il resto passa in secondo piano e così la vittima del narcisista psicopatico maligno diventa dipendente dal rapporto. Si tratta di un tipo di dipendenza che si autoalimenta del danno che la dipendenza stessa produce nella vittima. Il paradosso è che la dipendenza del rapporto tossico è vissuta erroneamente dalla vittima come l'unica forma per sfuggire ad un tipo di dolore e di sofferenza emotiva che la propria relazione con il narcisista psicopatico maligno ha creato e crea costantemente. La vittima vede nel proprio male la medicina per restare meglio e in questo modo il circolo vizioso si chiude in se stesso. Nel caso del rapporto con il narcisista psicopatico maligno la dipendenza nasce dalle alterazioni emotive e dai rimproveri degli avosi, dei maltrattamenti, eccetera, che produce nella vittima uno sballo che la conduce a non essere più presente nel qui e ora. Lo sballo emotivo che proporziona le situazioni di abuso con la triangolazione, le offese, la seduzione, i maltrattamenti psicologici che si alternano nei rapporti con il narcisista psicopatico maligno senza soluzione di continuità. La dipendenza da un partner narcisista psicopatico maligno prova che si è generato un potentissimo vincolo con lui, un vincolo che funziona come un potente attrattivo o magnete che torna una tantum ad avvicinarvi da chi dovrebbe ripugnarvi ed essere fuori dalla vostra vita da molto tempo. Il vincolo con un narcisista psicopatico è sempre di tipo traumatico. Si tratta di un vincolo che ha origine nel tradimento continuato perpetrato durante il rapporto dello psicopatico narcisista con voi, un vincolo di tradimento. L'errore commesso da molte vittime è attribuire l'intensità emotiva che provano alla qualità intrinseche dello psicopatico narcisista. Questo non è assolutamente corretto. Non sono le presunte qualità fisiche o psicologiche a rendere il narcisista psicopatico che ha interagito con voi attraente o irresistibile, ma il processo di manipolazione deliberato dalle vostre emozioni che lui o lei ha saputo orchestrare ed alterarvi e alienarvi da voi stessi. Ciò che spiega l'intensità di questo vincolo traumatico con un narcisista psicopatico è lo stesso trauma relazionale che si è creato. Nei traumi da tradimento si mette in moto un meccanismo umano di attaccamento al perpetratore secondo il quale tutte le vittime tendono a vincolarsi in modo compulsivo a chi all'interno di un circolo relazionale intimo maltratta e abusa di loro. Il vincolo di tradimento spiega perché una persona completamente normale e intelligente può sperimentare attraverso l'intensità il sovraccarico del rapporto con il narcisista psicopatico potenti sentimenti di attaccamento, desiderio e appartenenza. Tali sentimenti sono nati dall'iperattivazione neurologica del sistema oppioide, endogeno della vittima. L'attivazione di questi centri del piacere del vostro cervello vi porta a ricreare il trauma in qualche modo dentro voi stessi portandovi a trovare enormi difficoltà di andare avanti senza ricascare qualche volta nella rete di trappole che vi porge il vostro partner narcisista psicopatico. Il trauma del tradimento con un narcisista psicopatico non è quasi mai l'unico a essere capitato nella vita della vittima. Solitamente troviamo nella vita delle vittime vecchi traumi relazionali di tradimento che le hanno annientate e resi inermi a far fronte o a identificare velocemente un partner narcisista psicopatico. Le esperienze di abuso infantile, fisico, sessuale o emotivo, la violenza così come l'appartenenza a una famiglia disfunzionale con madre o padre psicologicamente assenti o emotivamente freddi, trascuranti o manipolatori possono trovarsi molto più frequentemente nello storico familiare delle vittime dei narcisisti psicopatici malini. Questi vecchi traumi di tradimento nell'ambito della loro famiglia di origine spiegano perché molte vittime non sono capaci di percepire le cattive intenzioni da parte di coloro che le vogliono manipolare e abusare. Semplicemente non hanno avuto l'opportunità di discernere sin dall'infanzia chi erano le persone che le volevano bene da coloro che gli volevano del male, il che finì per proiettare dentro di loro l'insicurezza e l'incapacità di fidarsi delle proprie percezioni. D'altronde sappiamo che i bambini che hanno subito abusi fisici, sessuali e emotivi terminano per avere più difficoltà nell'imporre limiti agli altri. sono molto più vulnerabili in età adulta agli eventuali attacchi da individui malintenzionati per non sapere dire di no, per l'incapacità di imporre dei limiti o stabilire barriere per bloccare gli abusi. E' anche risaputo da chi lavora con le vittime come i vecchi traumi di tradimento tendono a formare copioni di vita sin dalla più tenera età, copioni che funzionano a posteriori come motti di vita o profezie che si avverano, portandoli a introiettare, a rappresentare di volta in volta problemi simili con svariati tipi di partner tossici. Con il tempo e il perpetrare continuo dallo stesso trauma, la persona diventa sempre più vulnerabile, ritrovandosi ogni volta più incapace di difendersi dai manipolatori che capitano nella sua vita e che sanno identificare una simile vulnerabilità in lei. L'attrazione per il pericolo, le emozioni intense, il dramma emotivo e il vivere sempre in mezzo alla tragedia sono potenti magneti che spiegano la permanenza all'interno di un vincolo di tradimento anche laddove la vittima abbia le risorse economiche per abbandonare il partner abusante. I racconti delle vittime dei peggiori narcisisti manipolatori psicopatici ci offrono una narrativa di situazioni continuate di abuso per anni o decadi che sono finite con un attaccamento inaudito agli psicopatici narcisisti maligni e che includono una lealtà e una fedeltà assolutamente inconcepibile e non dovuta al perpetratore dell'abuso. Ecco perché la via d'uscita da un rapporto di coppia con un narcisista psicopatico maligno richiede un professionista esperto in questo tipo di trauma che abbia aiutato ad andare avanti altre vittime in situazioni simili. Nessuno è immune allo sviluppo di un piccolo traumatico di tradimento non dipende dall'intelligenza o dalla capacità mentale. Qualsiasi persona può finire in balia di questo tipo di vincolo per anni senza riuscire a comprendere le cause della propria sofferenza. Il cervello umano si è specializzato ad affrontare ogni tipo di situazioni di pericolo, di minaccia possedendo le risorse necessarie a farlo. Tuttavia non è allenato per attendersi un danno dai suoi cari. Non possiamo prevedere né reagire adeguatamente al tradimento quando questi provengono dalle persone a noi più vicine e care. Perciò quando capitano queste situazioni la mente umana passa a funzionare male, il cervello entra in un circuito di ripetizione traumatica, cerca di capire l'incomprensibile per provare ad arrestare l'incontrollabile, esperienza traumatica tornando a rappresentarla ogni volta nella mente come il flashback e dopo nella vita reale attraverso la ripetizione compulsiva di un trauma nella vita reale. E così che tendiamo a riportare nella nostra vita le peggiori esperienze che abbiamo vissuto sempre e comunque come in un eterno ritorno e uno dei modi abituali è ripetere continuamente e mantenere vicino a noi le persone che ci tradiscono senza riuscire a comprendere il meccanismo perverso che provoca tutto ciò, avvalendoci di ogni sorta di ragionamento per giustificare l'ingiustificabile. Spero che questo video ti sia stato utile e se hai riconosciuto nella tua vita i segni di una dipendenza emotiva da un narcisista psicopatico maligno ricorda che questo vincolo traumatico può avere un forte impatto sulla tua vita ma c'è speranza nella rinascita. Se hai bisogno di supporto per affrontare questa sfida non esitare a contattarmi alla mia email paolafendi.com posso aiutarti a comprendere, affrontare e superare questo momento doloroso. La tua persona merita attenzione e cura, non sei sola in questa lotta.